La salute nei bambini è al centro di un convegno aperto al pubblico nell'auditorium dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'appuntamento è per sabato 7 ottobre, dalle 8 alle 14 verranno affrontati temi di grande rilevanza per la salute pubblica in pediatria con relatori di fama internazionale. Abbiamo l'onore di avere all'auditorium del San Donato di Arezzo tre nomi di fama internazionale, tra questi il professore Bartuli e il professor Nobili del bambino Gesù di Roma, il dottor Lenzi del centro di riferimento regionale di diabetologia dell'ospedale Mayer. L'argomento è un argomento di grande interesse per la sanità pubblica che interessa non soltanto l'età pediatrica ma anche l'adulto e diciamo che in filigrana ci si occupa di bambini anche in età adolescenziale che sono di pertinenza sia del pediatra di famiglia che del medico di medicina generale. È un corso molto importante che vede radunati i pediatri di famiglia, i pediatri ospedalieri, i medici anche di medicina generale di tutta l'area vasta sud-est, cioè Arezzo, Siena e Grosseto. E abbiamo anche il piacere di avere con noi, oltre che pediatri, anche dietisti, dietologi e tutti quelli che sono interessati oltretutto è aperto anche a tutta la cittadinanza questo corso. L'evento è il patrocino dell'Associazione Diabetici Aretini.